Il Presidente del Consiglio questa mattina si è recato a Palazzo Madama, nella sede che ospita i senatori della Repubblica Italiana e ha presentato il suo programma, se così possiamo definirlo. L'occasione può essere ghiotta per poter ricordare un po' le questioni che abbiamo trattato precedentemente, che purtroppo non sono più presenti nella pagina del social network che stiamo utilizzando per motivi che ancora oggi risultano oscuri. Intanto cominciamo da dare una valutazione, così stiamo sulla notizia, dell'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che voglio ricordare sarà votato nella giornata di oggi dal Senato della Repubblica, domani verrà alla Camera dei Deputati, ci sarà il dibattito parlamentare e successivamente anche nella giornata di domani chiederà e con tutta evidenza otterrà la fiducia da parte dei deputati. L'intervento che abbiamo ascoltato è un intervento di ampio raggio, mi scappa di dire un intervento di legislatura. Che cosa significa? Significa che questo governo, pur non essendo nato dalle urne e quindi avendo bypassato il principio della legittimazione popolare, si appresta a svolgere un'azione duratura nel tempo. Voi ricorderete che noi abbiamo denunciato a questa fattispecie e lo vogliamo fare ancora oggi con grande energia e io spero che le persone che ascoltano siano convinte dell'anomalia tutta italiana che si sta allungando nel tempo, direi che è diventata una patologia di ogni tanto vedere qualche persona apparentemente illuminata decidere o dall'interno dei confini nazionali o spesso addirittura dall'esterno dei confini nazionali chi è che debba guidare il governo italiano. Con una perdita oggettiva di autonomia, di autorevolezza, ma soprattutto di democrazia. È accaduto già altre volte, per questo che la questione un po' ci preoccupa, perché finché si è trattato di un'eccezione, e io ho sempre citato, lo faccio anche oggi, l'esempio del presidente merito Carlo Azzelio Ciampi, già governatore della Banca d'Italia, che nel 1993, in presenza di una crisi morale devastante, perché l'Italia era attraversata da tangentopoli, quindi corruzione, malcostume, fu chiamato a fare il presidente del Consiglio, ma lo fece per un tempo dato, pochi mesi, per approvare la legge elettorale, che guarda caso ogni tanto il destino ci mette lo zampino, porta il nome dell'attuale presidente della Repubblica Mattarella, il Mattarellum, questo il nomignolo che fu attribuito a quella legge elettorale, e poi appunto l'Italia votò. Il popolo italiano quindi ebbe la possibilità, dopo tangentopoli, di esprimere un suo giudizio molto chiaro, in ordine alle cose che comunque si ascoltano in una campagna elettorale e fanno maturare dei giudizi, perché alla fine la democrazia è questo. Ci si presenta al cospetto degli elettori con delle proposte, queste proposte assumono i contorni di programmi elettorali e sono ispirate da valori, e i cittadini in base alle proprie sensibilità, alle proprie convinzioni, guardano da una parte piuttosto che dall'altra e quindi legittimano quello che poi accadrà in una fase successiva attraverso l'incarico che viene dato a formare il governo dal Presidente della Repubblica. Ma non fu quello l'unico esempio, anzi io lo salverei come forse esempio più che legittimo, diciamo necessario, più o meno opportuno, ma comunque probabilmente necessario. Poi abbiamo avuto altri governi ispirati dalla stessa logica, cioè superare l'ostacolo, perché ormai tale è ritenuto, delle elezioni politiche. Abbiamo avuto il governo Dini, che in buona sostanza servì a scalzare il primo governo di centrodestra della cosiddetta Seconda Repubblica. Dini non aveva un partito, era un tecnico, veniva dalla Banca d'Italia. Successivamente, scaduto il suo mandato, mise in campo una forza politica nuova, era rinnovamento italiano, si chiamava così, che ottenne, diciamo, consensi limitati, assai limitati, ma comunque anche quella è una storia da attenzionare ed è stata comunque una storia utile a evitare che il centrodestra proseguisse la sua esperienza di governo come i cittadini avevano stabilito. Poi c'è stato il governo del Professor Monti, anche il Professor Monti è una personalità esterna, veniva dalla Bocconi, era una persona con un ruolo importante in Europa e aveva comunque le sue convinzioni, insomma, diciamo che sono attribuite a lui gran parte delle decisioni dirigiste, molto rigide, che probabilmente ha assorbito il Professor Monti un po' dai suoi studi universitari, che naturalmente sono assolutamente pregevoli, ma sono spesso anche abbastanza distanti dalla realtà sociale, quando si assumono ruoli pubblici così importanti non è possibile prescindere dalla realtà sociale che ci circonda. Fatto sta che Monti si dice che fu espressione di un combiano disposto tra il Presidente Merito della Repubblica Italiana dell'epoca, cioè Giorgio Napolitano, mi scappa perché sono un po' malizioso di ricordare che Giorgio Napolitano fu la stessa persona, assoldata dal Partito Comunista di cui era dirigente, anzi espressione di una corrente riformista, che salutò l'ingresso dei cararmati sovietici nei paesi dell'est come una sorta di conquista. Insieme a Giorgio Napolitano è probabile che abbiano brigato la cancelliera Angela Merkel e l'ex Presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy. Perché alla fine, se ci prestiamo un po' d'attenzione prima di proseguire in questa narrazione, ha visto mai che due indizi fanno una prova? È come se qualcuno avesse interesse che l'Italia non sia libera fino in fondo, non possa emanciparsi fino in fondo, non possa affrontare i propri nodi fino in fondo, ma debba sempre avere una sorta di commissario rappresentato in questo caso dal combinato che ho già citato e che trova comunque il suo cuore, il suo baricentro proprio a Bruxelles e che abbia interesse che comunque questo debito pubblico, per dire uno dei parametri più significativi, una delle convenzioni più stringenti su cui si fondano i principali trattati europei, rimanga in buona sostanza com'è e produca gli interessi passivi che noi subiamo ogni anno e che ingigantiscono lo stesso debito pubblico con il passare del tempo fino a renderlo in buona sostanza ingestibile. Siamo a 2.500 miliardi? 150-160% del nostro prodotto interno lordo? È una cifra pazzesca! Se i nostri interessi passivi cubano 100 miliardi l'anno, supponiamo, forse è una cifra eccessiva, ma non sarà molto distante da questa approssimazione, perché se erano 70 miliardi prima della pandemia, gli interessi passivi su base annua, più o meno saremo intorno a questa cifra. 100 miliardi l'anno per 10 anni sono 1.000 miliardi, quindi noi tra 10 anni, pensiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, avremo 3.500 miliardi di euro di debito, e quindi non c'è soluzione. Certo che dal punto di vista dell'asse franco tedesco o di altre nazioni che non hanno tanto a cuore l'Europa, quanto percepiscono e forse subiscono quel rifesso condizionato così di un carattere un po' arrogante, di chi la vuole dominare l'Europa, come se ci si fosse provato in altre epoche con diverse modalità, le guerre di indipendenza, le alleanze variabili che ci sono state nel corso della storia, anche sanguinosa del continente europeo, e poi con le guerre mondiali, le dittature, i totalitarismi, è come se ancora l'Europa non avesse trovato la via maestra della condivisione, dell'armonia, della comunità, della solidarietà, e alla fine se c'è comunque un paese europeo, oltretutto tra i paesi fondatori, che si arrabbatta con 3.500 miliardi di euro di debito e con un prodotto interno lordo tra lo 0,1 positivo e lo 0,1 negativo, può fare buon gioco, perché è un'altra modalità appunto per avere dei rapporti di forza piegati a proprio vantaggio. Monti, per l'appunto, con le sue ricette, con le sue decisioni e le conseguenze di queste decisioni. Ma non è finita qui, perché poi abbiamo avuto il Conte 1 e successivamente il Conte 2, anche Conte non è mai passato come Monti, come Dini, per le urne. I cittadini italiani non lo hanno potuto votare, non lo hanno potuto votare. Ed è stata infatti una sorta di carta a ribasso per mettere insieme i due soggetti forti del primo governo, voluto da Mattarella, e cioè il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, e il leader del Movimento 5 Stelle, all'epoca lo era, Di Maio. Ora, la domanda la faccio a me stesso, perché voi che ascoltate potete dare delle risposte nei messaggini, ma non potete, ahimè, interloquire. La domanda è obbligatoria. Ma non è che questo sistema vagamente oligarchico, o se preferite adesso che è il turno del Presidentissimo Mario Draghi, vagamente tecnocratico, non è che questo sistema si stia stratificando e che di fatto stia facendo ammainare la bandiera della democrazia in Italia? Questa domanda noi ce la dobbiamo porre. Perché sono duemila anni che ci si interroga su quale possa essere la formula più idonea per governare i popoli. E fin qui, la risposta che è pervenuta, la più convincente, o se preferite, per i supercritici, la meno peggiore, è quella della democrazia. Allora si potrebbe immaginare che nelle altre democrazie avanzate del mondo occidentale le cose stiano andando esattamente nella stessa direzione. c'è un'esigenza di velocizzazione, c'è un ribaltamento dei ruoli tra poteri forti, grande finanza e stati nazionali, per cui un po' tutte le nazioni si stanno adeguando a questa fattispecie piuttosto che far decidere i cittadini da chi essere governati, arrivano le eminenze grigie e stabiliscono dall'alto chi è che debba fare il capo di governo di una nazione importante. Ma non è così. Questa domanda noi ce la siamo posta, abbiamo mobilitato i nostri staff, sono state fatte ricerche, non c'è una sola democrazia al mondo, non in Europa, al mondo che preveda che a un certo punto qualcuno tiri fuori l'asso nella manica o se gradite quest'altra metafora il coniglio dal cilindro e tutti si trovino a dare un giudizio sul coniglio. Non è possibile, perché i giudizi soggettivi sulle persone che assumono ruoli di evidenza e responsabilità pubblica non attengono alla democrazia, la democrazia è un sistema oggettivo, ti dice in quale modalità puoi partecipare e come vincendo nella gara, nella competizione con gli altri tu possa giungere a svolgere il ruolo di capo di uno Stato. Te lo dice la democrazia come devi fare. Può essere la democrazia diretta e quindi i cittadini vengono chiamati a esprimere direttamente il Presidente della Repubblica superando il filtro dei partiti o può essere una democrazia indiretta in mezzo alla quale c'è il percorso parlamentare per cui i cittadini non decidono il Presidente della Repubblica né il Presidente del Consiglio ma scelgono i parlamentari e i partiti che poi in Parlamento tra loro tra quelli che sono passati al baglio al giudizio del popolo scelgono in base ovviamente ai pesi ai numeri delle coalizioni chi possa aspirare ad avere l'incarico dal Presidente della Repubblica per comporre un governo non ci sono altre soluzioni questo è un metodo oggettivo che mette tutti in sicurezza l'altro il giudizio soggettivo sulla persona badate bene somiglia sinistramente ad altre epoche storiche in cui se andava bene c'erano i magnati c'erano gli imperatori quando andava male c'erano i dittatori c'erano i tiranni e di fronte a un dittatore a un tiranno a un imperatore una parte del popolo esprime soggettivamente un giudizio positivo un'altra parte del popolo esprime altrettanto soggettivamente un giudizio negativo questa vicenda è stata già trattata e risolta con l'avvento della democrazia quindi qui non c'è tanto da stare a giocare chiedo scusa c'è da stare a giocare sul fatto che noi chiediamo sempre le elezioni anticipate mi rendo conto anch'io che è una litania che torna e ritorna poi io vengo da destra politicamente quindi figurarsi quante volte l'ho ascoltata ma qui il tema comincia a diventare serio perché un conto è chiedere le elezioni anticipate negli anni 70 quando comunque c'erano i parlamenti autorevoli i partiti i gruppi parlamentari la dialettica la discussione la politica che aveva un ruolo rispetto all'economia e ancora di più rispetto alla finanza un conto è trovarsi adesso in questo pasticcio dove una volta è Monti una volta è Conte una volta è Dini una volta è Draghi una volta è Ciampi una volta è Amato trovi sempre qualcuno dall'esterno fuori dal portone della democrazia che ti offre delle soluzioni e lì tutti i cittadini noi compresi siamo chiamati avendo avuto una sorta di deviazione tecnica ad esprimere il giudizio sulla persona non avendolo potuto esprimere sulle formule sui programmi sui partiti sui leader e quindi sulle prospettive sui destini di una nazione questa lunga premessa era obbligatoria perché è chiaro che se questa è la premessa ed è una premessa che intende presidiare il perimetro della democrazia la conseguenza non può essere il sostegno al governo formato da Mario Draghi su cui voglio ancora insistere sul fatto che nessuno di noi fratelli d'Italia fin qui non lo ha criticato in quanto tale l'ex governatore della Banca d'Italia l'ex presidente della Banca Centrale Europea Draghi perché nelle sue funzioni ha un valore oggettivo non è che chi parla può mettersi ad attaccare sul piano del sistema del credito delle politiche monetarie una professora una persona dello spessore di Mario Draghi però voglio anche ricordare che non è affatto detto che chi sa fare una cosa ne sappia necessariamente fare altrettanto bene un'altra o magari l'esatto opposto di quella che sapeva fare mi è scappato già di dire e lo confermo che magari chi riesce in maniera esemplare a rappresentare gli interessi dei banchieri e delle banche non è detto che possa rappresentare gli interessi di un popolo non è detto non lo escludo ma non può essere implicito mentre in questa circostanza mi pare che ci sia una sorta di apoteosi un giudizio unanime acritico che non porta tanto bene alla democrazia non si possono servire due padroni non è detto che ci si riesca magari ci riuscirà Mario Draghi lo vedremo ma non è detto che ci si riesca la sua abilità nel tutelare gli interessi delle banche non è detto che corrisponda con altrettanta abilità nel tutelare e promuovere gli interessi dei popoli del popolo italiano in questo caso queste nostre titubanze ci indussero ad avere perplessità a chiedere le elezioni anticipate al capo dello Stato a convincere l'intero centrodestra a chiedere le elezioni anticipate perché sappiamo perfettamente che in una crisi come quella che stiamo attraversando l'Italia ha bisogno o avrebbe bisogno se preferite di un governo forte di un governo autorevole però sappiamo altrettanto bene che questa forza non la danno le astrazioni o i giudizi dell'elite o degli analisti più raffinati o degli editorialisti dei giornali a maggiore diffusione o il circuito mediatico questa forza i governi ce l'hanno se dietro hanno il popolo è il popolo che dà peso specifico ai governi un governo pesa se ha un consenso popolare anche nei contesti sovraordinati quale può essere il contesto europeo o quello atlantico dove da un lato certamente tutti dobbiamo collaborare affinché l'Unione Europea vada meglio affinché il patto atlantico e la comunità internazionale che si riconosce nell'alleanza occidentale possa distinguersi e migliorare il benessere delle famiglie delle persone e dei popoli però diciamo che è importante comunque mettere i puntini sulle i e cercare di essere seri Draghi ha fatto un discorso che potrebbe essere concluso in pochi mesi di governo perché Giorgio Meloni prima di offrire al centrodestra il voto di astensione proprio per mantenere la compattezza del centrodestra partendo da posizioni critiche chiese anche che Draghi o chi per lui potesse avere una durata limitata nel tempo e potesse condurre l'Italia alle elezioni anticipate perché appunto deve essere fatta salva la democrazia e i suoi principi solenni la risposta non c'è stata è stata una risposta negativa sotto questo aspetto e oggi ci troviamo paradossalmente al centro di una tempesta perfetta perché chi ha ascoltato l'intervento di Mario Draghi avrà potuto constatare che la persona e la coalizione che lo sostiene cioè i quattro quinti del Parlamento non ci pensano proprio a accompagnare per mano il popolo italiano alle urne per mettergli in pugno lo scetto del comando non ci pensano proprio l'intervento di oggi dell'ex governatore di Banca Italia e l'ex presidente della Banca Centrale Europea è un intervento di legislatura anzi se proprio vogliamo fare un'analisi logica e vivisezionare i concetti che ha messo sul tavolo potremmo addirittura definirlo un governo ventennale lo spazio temporale che dovrebbe servire potrebbe servire per fare tutte le cose che ha citato Draghi è certamente superiore intanto ai pochi mesi che avevamo chiesto noi in modo tale che prima del semestre bianco visto che abbiamo un Parlamento diciamo così parzialmente legittimato a legiferare perché è stata fatta una riforma della Costituzione che porta i parlamentari da oltre mille a poco più dei 600 e forse è il nuovo Parlamento che dovrebbe anche per dare più legittimità e più peso specifico al capo dello Stato votare il nuovo Presidente della Repubblica il successore a Mattarella se la logica ma qui tutti tacciono sono argomenti che se fossimo stati noi a parti invertite al governo sarebbe scoppiato il potiferio avrebbero tutti eccepito sulla illegittimità di un Parlamento scaduto che invece di andare a elezioni per votare il Presidente della Repubblica si fosse comportato come si sta comportando quello attuale noi siamo diciamo così perplessi su questo arco temporale così ampio perché è perché un conto come aveva chiesto Giorgio Meloni è pensare di fare due operazioni semplici e condivise quali la messa in sicurezza della salute degli italiani attraverso un piano di vaccinazione possibilmente depurato dalla persona di Arcuri che ha una gestione ha avuto una gestione commissariale decisamente poco trasparente e anche abbastanza larga di manica per dirla in romanesco spendacciona e non mi pare che questo sia il momento di mettersi a elargire i contributi a pagare i gazebo della Primula disegnati dall'archistar Boeri come a 400 mila euro a gazebo una cosa pazzesca cioè ad ascoltarlo non ci si crede con tutte le sedi che esistono altalune poco abitate a tal'altra in stato di abbandono o anche sedi provvisorie o anche i gazebo se proprio si volesse utilizzare le tenso strutture che sono comunque nella dotazione di tante aziende che sono ferme perché le fiere le manifestazioni le feste i luoghi di ritrovo sono interdetti ormai da quasi un anno e quindi queste aziende stanno come molte altre in grande difficoltà messa in sicurezza della salute dei cittadini con un piano di vacillazione efficace e tempestivo e consegna dopo averlo definito del recovery plan va dato a Bruxelles entro il 30 di aprile quindi insomma abbiamo poco tempo un paio di mesi per lavorarci sopra metterlo a punto cercare di entrare in sintonia con le richieste europee almeno per avere l'anticipo dei 13 miliardi perché altrimenti gli altri fondi arriveranno nel 2023 e insomma noi occorrerebbero molto prima fatte queste due cose si poteva andare al voto invece Draghi qui parla di ritorno alla normalità parla di spirito repubblicano parla della crescita dice che la politica non è fallita dice si esprime sulle alleanze internazionali salvaguardando ovviamente peraltro insomma alcune dichiarazioni sono non voglio dire banali perché non voglio essere offensivo ma sicuramente scontate l'alleanza continentale con gli altri soggetti europei e l'alleanza atlantica non sono mai state messe in discussione da nessuno abbiamo ascoltato parole abbastanza importanti sui lavoratori a tempo indeterminato sulla cassa integrazione sul superamento della didattica a distanza e il ritorno alla didattica in presenza nelle scuole abbiamo ascoltato diciamo parole abbastanza significative e profonde sulla ricerca sulle eccellenze sulla riforma della sanità sulla sanità di prossimità e quindi sul potenziamento del territorio abbiamo sentito parlare di turismo per poterlo portare fuori dal dal disastro con anche un cambio di modello così dice e non solo ma questa sorta di cambio di modello è stato indicato come prospettiva anche su altre aziende in crisi quasi facendo una distinzione tra quelle aziende che devono crescere riprendere una crescita e altre aziende evidentemente concepite e percepite come di serie B che invece dovrebbero essere accompagnate alla chiusura o rigenerate non si sa bene in quale maniera abbiamo sentito qualche valutazione sui giovani sulle donne sui lavoratori autonomi sulle infrastrutture sulla digitalizzazione su ovviamente la economia verde ci mancherebbe altro chi non ne parla commette peccato grave forse mortale abbiamo sentito parlare di tassazione di una necessità di una riforma organica della tassazione criticando invece le riforme che sono state fatte fin qui che sono state parcellizzate e quindi poco armoniche tra loro e molto altro insomma ci sono state licenze anche ovviamente si è parlato della giustizia della necessità di una riforma organica della giustizia civile che è considerato uno degli argomenti per i quali gli investimenti da parte di aziende esterne ai confini nazionali siano difficoltosi e quindi spesso inducano a uno scoraggiamento non ve li ho citati mica tutti gli argomenti né ve li ho contestualizzati perché altrimenti ci vorrebbe una giornata intera per ragionare insieme però capite bene che appunto siamo in presenza di argomenti che devono essere passati preventivamente al baglio dei cittadini perché questi sono i principali dossier ha parlato anche di relazione con i flussi migratori in relazione all'Europa chiedendo in buona sostanza che l'Europa aiuti l'Italia nella politica dei rimpatri che peraltro è stato un antico cavallo di battaglia da noi sempre sottolineato ormai da oltre un quinquennio fa questi argomenti spaccano a metà il Parlamento italiano perché storicamente sono argomenti decisivi che definiscono un'identità che definiscono un programma di lavoro quindi se Draghi è una eccellenza italiana che viene chiamato a formare il governo io penso che sia ovvio e normale che le sue competenze debbano essere limitate debba agire all'interno di un perimetro perché se lui fuoriesce da questo perimetro e spazia a 360 gradi diventa più complicato perché la politica badate io oggi ho partecipato a una trasmissione televisiva dove alla terza obiezione sui presunti litigi della politica mi sono permesso di sottolineare il fatto che non è che la politica litiga la politica si confronta e la politica esiste esattamente per questo la politica ha una modalità attraverso la quale cittadini che hanno pensieri sensibilità e stili di vita diversi dopo aver ascoltato le indicazioni dei movimenti e dei partiti politici danno un'adesione perché gradiscono e vorrebbero desidererebbero che quel modello possa prevalere su un altro la famiglia la droga i servizi la sicurezza l'immigrazione l'economia il fisco l'ambiente la difesa le infrastrutture il ponte sullo stretto l'ilva l'italia quante altre l'alta velocità il reddito di cittadinanza questi sono tutti i dossier su cui fatalmente ci deve essere un confronto e non potrà che vedere visioni diverse sull'economia è un esempio io faccio esempio lo voglio ribadire anche adesso perché dobbiamo capirci e non è detto che un banchiere siccome ha a che fare con l'economia ma soprattutto con la moneta e le monete e i risparmi e i giacimenti bancari abbia una competenza da questo punto di vista cioè abbia una visione non è detto ma su sull'economia le ricette sono diametralmente opposte e anche sulla socialità noi siamo per l'assistenza sociale l'assistenza alle persone più disagiate più fragili più deboli ai poveri che sono ahimè aumentati e certamente non per nostra responsabilità perché c'è chi sulle nuove povertà costruisce la propria fortuna elettorale lo vogliamo dire sfruttandola e illudendola ma anche sull'economia ci può essere la ricetta quante volte l'abbiamo ascoltato dai governi di sinistra della redistribuzione e c'è la ricetta che dice sì redistribuiamo ma prima di redistribuire dobbiamo creare ricchezza se no che cosa distribuiamo il centro-destra storicamente è più attrezzato per costruire la prospettiva di una crescita di uno sviluppo di una maggiore produzione di ricchezza perché la ricchezza la si produce innanzitutto mettendo le aziende nelle condizioni di essere competitive con il sistema e con altre aziende di altre nazioni se queste imprese riescono a creare ricchezza insieme agli investimenti pubblici insieme alla ricerca insieme alla formazione insieme a una serie altra di fattori si può aspirare ad avere un prodotto interno lordo che è una sorta di indicatore della capacità di produrre ricchezza tale almeno da mangiarsi gli interessi passivi sul debito quindi da accumulare zero euro di interessi passivi l'anno e quindi cristallizzare il debito pubblico invece di vederlo schizzare come ho detto Pino fino a 3.500 euro di debito tra dieci anni nel 2031 almeno sappiamo che è enorme è gigantesco ma rimane fisso lì a 2.500 miliardi di euro perché cresce la ricchezza e blocca l'espansione degli interessi passivi questa soluzione è la soluzione del centro-destra siamo per l'assistenza sociale non siamo per l'assistenzialismo che è una degenerazione dell'assistenza il reddito di cittadinanza è la degenerazione di quelle mani che si vogliono protendere per soccorrere le persone in difficoltà e tra queste persone in difficoltà non ci sono solo coloro i quali sono disperati quasi per definizione le persone meno fortunate e meno attrezzate oggi questa soglia cresce e ingloba tra i cittadini italiani come ci dimostrano i dati più recenti emessi dalla Caritas Diocesana cittadini italiani e imprenditori e lavoratori autonomi e professionisti cioè quel tessuto orizzontale produttivo che serve esattamente a fare quell'operazione che ho descritto poco fa a crescere nella capacità di creare ricchezza dunque abbiamo apprezzato perché se dovesse essere così uno spartito l'intervento di Draghi non potrebbe che avere anche degli aspetti suggestivi ma siamo sinceramente sconvolti dal fatto che come se nulla fosse come se nulla fosse ci si appresta unici al mondo tra tutte le democrazie del pianeta a dare una sorta di mandato in bianco a una persona che non è stata scelta dal popolo come prevede la democrazia a un governo del Presidente della Repubblica non siamo in una Repubblica presidenziale ma il Presidente della Repubblica fa di fatto il governo però non si vuole cambiare la Costituzione in modo tale che si possa dare questo potere al Presidente della Repubblica su designazione però dei cittadini quindi c'è come dicevo poco fa una tempesta perfetta con l'aggravante del fatto che la compagine di governo vede una convivenza incestuosa tra che ne so Partito Democratico e Lega Nord tra Forza Italia e Movimento 5 Stelle che cosa accomuna e su questi dossier citati chi la spunterà quale ricetta quella della patrimoniale che vuole la estrema sinistra del PD o di certo PD e di Leu oppure quella dell'abbassamento delle tasse per dare impulso all'economia che vorrebbe il pezzo di centrodestra che è entrato al governo quindi bisogna essere seri noi abbiamo il difetto forse mi dispiace insomma io cerco di dirlo anche sorridendo per non essere troppo pesante perché la serietà spesso appesantisce ogni dialogo però noi vogliamo essere seri e dire lasciateci fare la nostra opposizione anzi nessuno ci deve lasciare fare niente perché i nostri diritti li conosciamo bene e siamo capaci di presidiarli non vi allarmate perché ci sarà un'opposizione in Parlamento viva Dio che ci sarà un'opposizione in Parlamento e viva Dio che sarà rappresentata da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia a cui non si può certo negare la capacità di sottolineare sempre il senso dello Stato e la sensibilità verso le istituzioni repubblicane forse è un bene in questa fase che esista un'opposizione ed è anche un bene che questa opposizione sia rappresentata non da facinorosi che fanno una battaglia per distruggerlo il Stato ma da persone che faranno un'opposizione patriottica costruttiva che aiuteranno l'Italia e lo faranno gratuitamente senza avere ministeri in cambio che non faranno mancare il proprio sostegno anche in termini di voti parlamentari come già accaduto in passato entrando però nel merito delle questioni e dialogando con i corpi intermedi col mondo del lavoro col mondo della produzione con i sindacati per cercare sempre le soluzioni migliori e noi le presenteremo come un orologio ci si potrà rimettere l'ora appunto al governo Draghi e alla coalizione che lo sostiene nella speranza che ci sia altrettanta correttezza dall'altra parte che quando arriveranno delle proposte giuste e significative potranno essere salutate da un giudizio positivo e quindi accolte nei provvedimenti di governo questa melassa informe secondo la quale dovremmo andare tutti d'accordo e tutti dovremmo omaggiare una sorta di nuovo monarca non ci appartiene non è in sintonia con i valori a cui aderisce la democrazia italiana porta anche male a mio giudizio perché vedere che non esiste un'opposizione è un fatto assolutamente deprecabile insidioso e esaspera gli anime quindi facciamo lo dico anche ai nostri avversari alla sinistra facciamola finita con le criminalizzazioni Giorgia Meloni è anche presidente del partito conservatore europeo a cui aderiscono fiorfiori di partiti conservatori anche extracontinentali come i repubblicani americani i canadesi gli australiani quindi noi faremo un'opposizione giusta la faremo determinata sarà un'opposizione sui contenuti sarà un'opposizione patriottica l'abbiamo definita così e la confermiamo come tale quindi che tutelerà gli interessi dell'Italia saremo un'opposizione gentile rispettosa dello Stato pronta a rimboccarsi le maniche per lavorare ed aiutare non il capo del governo Draghi né i partiti che dominano questa coalizione che sono comunque i partiti di sinistra perché chi è che ha i numeri maggioritari dentro questa coalizione non sono né la Lega né Forza Italia ma sono esattamente coloro che già avevano la maggioranza nel precedente governo Conte e cioè Partito Democratico dalla Viva Movimento 5 Stelle e l'EU quindi condizioni proibitive nessuno sa allarmi nessuno sa allarmi non ci può essere una direzione unica un giudizio monocorde perché è comunque pericoloso e io voglio dire anche una frase che ho utilizzato e che ho preso da una nota canzone di un cantautore italiano che comunque ha fatto delle vere opere d'arte delle vere poesie qualche giorno fa per un'altra ricorrenza che non sto qui a citare dico a Mario Draghi ai ministri della Repubblica italiana in carica alle forze politiche che ci hanno criticato per questa scelta forse non lo sai capo del governo ma anche questo è amore dedicarsi all'Italia senza avere niente in cambio dare una mano senza sedere al tavolo per spartirsi pezzi di potere saremo critici ma non saremo distruttivi saremo giusti entreremo nel merito dei provvedimenti e saremo sempre ispirati da un'unica bandiera la tutela degli interessi dei cittadini italiani grazie grazie grazie